in questo numero del tg ambiente cnr i biosensori ecosostenibili rilevano le molecole tossiche inverno senza neve un video punta i riflettori sulla crisi climatica in sicilia le serre sono sempre più green prisma 2 il nuovo satellite italiano che studierà i cambiamenti climatici la fabbricazione di biosensori enzimatici è un sistema in continua espansione ad attirare l'attenzione dell'industria e la loro capacità di essere altamente selettivi e sensibili in particolare i biosensori a base dell'enzima laccasi suscitano molto interesse per la loro capacità di rilevare molecole altamente tossiche nell'ambiente possono diventare così strumenti essenziali nei campi delle tecnologie di produzione industriale con un basso impatto ambientale come la biotecnologia bianca e la chimica verde che utilizzano organismi viventi e sostanze chimiche non inquinanti per creare processi industriali con meno sottoprodotti dannosi la produzione di un nuovo biosensore a base di laccasi esente da metalli e con capacità di riutilizzo e conservazione senza precedenti è stata raggiunta dall'istituto di struttura della materia del consiglio nazionale delle ricerche il risultato più rilevante riguarda le grandi prestazioni in termini di riutilizzo e stoccaggio quest'ultimo può arrivare fino a due mesi senza particolari cure lasciando il biosensore a pressione e temperatura ambiente ed esposto alla luce solare il cambiamento climatico è in corso si apre con questa frase perentoria il video denuncia del film maker marco rostagno girato nelle scorse settimane sulle alpi piemontesi insolitamente senza neve il video dal titolo change è ora di cambiare mostra due sci alpinisti su una montagna completamente priva di neve che iniziano a scendere sull'erba con i loro sci come se quella neve ci fosse davvero una metafora del fatto che bisogna adattarsi ai cambiamenti climatici ma allo stesso tempo che bisogna agire perché la crisi climatica non si intensifichi ulteriormente i cambiamenti climatici non sono un concetto astratto o qualcosa che riguarda luoghi remoti le loro conseguenze sono ben visibili anche in italia per le alpi questo inverno è stato il più mite secco degli ultimi 158 anni con una temperatura che ha registrato 1,8 gradi centigradi in più rispetto al periodo 1991-2020 un problema le cui conseguenze saranno avvertite negli anni a venire e per questo il messaggio finale che il regista vuole mandare agli spettatori è secco e diretto non c'è più tempo da perdere serre tecnologiche e sempre più sostenibili dalla sicilia parte la sfida per il rilancio della filiera produttiva serricola in ottica green una sfida che in provincia di ragusa è già realtà grazie al progetto intesa innovazioni tecnologiche nella filiera agroindustriale promosso nell'ambito di una iniziativa cofinanziata dal programma eni italia tunisia con fondi fesr si tratta di un nuovo sistema di produzione per colture protette che coniuga l'aeroponica tecnologia utilizzata nelle emissioni spaziali in cui le piante vengono coltivate senza l'uso di substrati e la nebulizzazione dei nutrienti nelle radici con l'nft sistema in cui le piante sono poggiate su una canalina e le radici si alimentano attraverso un film di soluzione nutritiva tutto questo significa meno acqua meno trattamenti meno concime e minore impronta co2 qualità controllata prezzi competitivi il coordinamento progettuale è stato affidato alla sosvi in collaborazione con il ministero delle politiche agricole questa è una delle iniziative del progetto intesa è un progetto europeo italia tunisia per il rafforzamento delle attività produttive legate alla serrocultura della fascia trasformata dobbiamo sempre ricordare che la nostra fascia trasformata rappresenta un unicum rappresenta un'eccellenza in europa siamo la secondaria d'europa per concentrazione dei serri orticole dopo l'almeria in spagna la filiera produttiva che c'è attorno alle sculture servicole è enorme è importantissima ed è un unico in europa un nuovo satellite italiano potrebbe essere lanciato presto in orbita con l'obiettivo di studiare la terra e i suoi mutamenti come i cambiamenti climatici il clima l'ambiente l'atmosfera e l'inquinamento si tratta di prisma 2 o prisma di seconda generazione il satellite dell'asi l'agenzia spaziale italiana fratello minore del prisma 1 lanciato in orbita quattro anni fa autore delle più belle immagini dell'eruzione dell'etna dei giorni scorsi la missione prisma 2 ha dichiarato il direttore dei programmi dell'agenzia spaziale italiana garantirà a livello nazionale la continuità della fornitura di immagini iperspettrali alla comunità scientifica e applicativa nel prisma di seconda generazione sarà incrementata la risoluzione a terra delle immagini rispetto a quella attualmente possibile una capacità che aumenterà i benefici che derivano dai dati raccolti ad esempio si potrà notare uno sversamento in mare prima che diventi troppo ampio ma anche l'agricoltura di precisione potrà fare uso di dati ancora più accurati